ecco c'è il codice finalmente implementazione del metodo alle differenze finite all'indietro in matlab scrivete qua sotto nei commenti le vostre domande i vostri dubbi o le cose che avete capito non avete capito volete che rispieghi un altro video magari altre persone potranno poi commentare e spiegarvi anche a loro volta iscrivetevi al canale troverete tanti video sull'argomento già fatti nella playlist differenze finite e in altre playlist su altri argomenti se siete studenti di facoltà scientifiche avrete grande giovamento grande interesse a seguire questi video in quanto io metto online le lezioni fondamentalmente che faccio private con studenti di questo tipo di facoltà universitarie quindi tutor island contatti li lascio qua sotto nella descrizione e adesso andiamo a vedere il codice che implementa la formula alle differenze finite all'indietro eccoci vediamo una piccola premessa su come discretizzare il nostro dominio che cosa significa questa formula qua backward è la formula abbiamo visto nel video precedente per metodo alle differenze finite all'indietro in realtà mi piace di più scrivere in questo modo che vi ho preparato ecco f di x con k meno f di x con k meno 1 diviso h questo fa risaltare di più rende più chiaro è il fatto che il nostro sia un calcolo discreto mettiamo qua l'asse delle x considero un insieme discreto quindi avrò dei valori puntuali su quest'asse mettiamo lo 0 qui mettiamo per esempio qui il più 2 per seguire l'esempio delle differenze finite in avanti di un paio di video fa seguite la playlist e qui ci mettiamo meno 2 adesso arrivo con la spiegazione meno 1 punto 0 poi qui in mezzo c'era 1 punto 0 ecco che cosa significa questa cosa della k mettiamo qua sotto anzi cambiamo colore mettiamoci di nuovo quel verde bellissimo che ho usato per la formula era questo qua allora k dunque k questo qui lo chiamiamo 2 questo qui lo chiamiamo 3 questo qui lo chiamiamo 4 5 e 6 sono partito dal 2 perché in realtà c'è un k 1 qui se vi ricordate cosa è successo per le differenze finiti in avanti avevamo un punto fantasma qua qui ce l'abbiamo qui cioè abbiamo il meno 3 punto 0 e poi quando implementiamo vediamo perché quindi quello lì sarà il punto 1 in realtà poi poi a noi interesseranno i punti successivi da qui in poi però per adesso dobbiamo considerare anche quello quindi questa formula bellissima qua mi dice che cosa facciamo come posso farlo vedere se possiamo prendere dei colori ecco qui così mi dice vuoi calcolare la derivata numerica usando le differenze finiti in avanti nel punto meno 2 benissimo devi conoscere la funzione il valore della funzione nel punto meno 2 e devi conoscere il valore della funzione nel punto guardate bene x con 0 o guardiamo quella sotto x con k quindi k è 2 k meno 1 sarà 1 quindi vuol dire devi conoscere il valore della funzione usiamo gli stessi colori questo valore della funzione nel punto 2 punto k2 quindi nella x sarebbe meno 2 e a questo devi sottrarre il valore della funzione nel punto 2 meno 1 1 quindi il k pari ad 1 mi dà la x pari a meno 3 quindi c'è questo gioco appunto per questo motivo si chiamano a differenza finita all'indietro perché per conoscere il valore della derivata nel punto che ho qui segnato con questo celeste devo sapere il valore della funzione nel punto stesso e nel punto precedente e poi devo dividere per h che cos'è h h è l'incremento costante l'abbiamo scelto costante per tutta la griglia h quindi qua ci sarà h h h h e l'abbiamo scelto definito noi ci metto anche i due punti addirittura per proprio per far vedere che l'abbiamo scelto noi grande quanto 1.0 ok poi andremo a fare un'analisi un calcolo più rifinito e h lo faremo diventare più piccolo per esempio 0.1 o anche 0.01 a seconda della precisione che vogliamo ottenere infatti se guardate il video precedente con la teoria la precisione è funzione di h l'errore è funzione di h e quindi un h più piccolo ci dà un errore più piccolo dunque giusto così per fare una premessa il codice come si può creare questo che in realtà è un vettore adesso lo faccio magari con il colore facciamo l'arancione ecco così sì questo arancione qua vediamo un po allora sì qui ci metto per esempio x lo segno come vettore con il trattino sotto e in matlab creare un vettore di quel tipo è molto facile mi basta dire x è uguale parentesi quadro aperta il primo valore meno 3.0 poi ci metto due punti qui ci metto l'incremento che nel nostro caso vale 1.0 anche il punto 0 non è obbligatorio ma è una precisazione maggiore perciò quando vi ricordate mettetelo e qui il limite superiore 2.0 e chiudo la quadra poi metto un punto e virgola così non vedo l'output sulla durante l'esecuzione del programma altrimenti questo mi darebbe mi stamperebbe ogni volta un sacco di numeri ecco tutto qua questo x che io ho chiamato anche qua con x viene generato in automatico con questa riga di codice qua ho voluto darvi un preambolo per chi di voi ha meno esperienza con matlab per chi ha già esperienza questo sarà molto basilare scontato però piano piano anche chi non ha esperienza può entrare poi se volete dei tutorial su matlab scrivetemelo ne farò li troverete su tutor island perciò iscrivetevi al canale e cercate tra i video vecchi cos'altro dire direi che con questa parte qua di formule e teoria siamo proprio a posto adesso ci mancava soltanto la discretizzazione della griglia e così adesso giusto per fare l'ultimo esempio vediamo per esempio se io volessi calcolare la derivata numerica con le differenze finite lì indietro nel punto più 1 ecco che cosa dovrei fare il valore della funzione nel punto più 1 meno il valore della funzione nel punto 0 diviso come al solito il valore di h e sto sempre facendo qualcosa che va al che guarda all'indietro per questo differenze finite all'indietro va bene direi che possiamo partire con il codice allora che cosa faccio io di solito per poter scrivere il codice in maniera più comoda utilizzo un programma si chiama visual studio code è questo qua giù ve lo consiglio l'ho già consigliato anche nei come si dice nei video precedenti dunque io qui creo un nuovo una nuova cartella questa cartella la chiamo differenze finite in backward ecco così stringato la trascino sopra visual studio code sopra la sua icona ho tenuto troppo tempo ecco la trascino e lascio questo mi apre visual studio code direttamente in quella cartella per chi di voi usa già matlab non c'è nessun problema usate matlab così com'è e andrà benissimo per chi invece vuole un editor diverso perché per esempio come me usa octave al posto di matlab allora potete usare per esempio visual studio code bene qua dentro crea un nuovo file lo chiamo differenze finite backward punto m file matlab script a no estensione punto m do l'invio e il programma mi apre un file qui sulla destra bene per adesso posso chiudere il pannello dei file così mi concentro direttamente al 100% sul mio file io voglio realizzare una funzione una function che crei un output numerico chiamiamolo per esempio di y numerico e che sia che prenda in ingresso per esempio il vettore delle x e il valore dell'incremento h diamo un piccolo commento a questa funzione per esempio calcola il valore numerico della derivata nei punti x usando il metodo delle differenze finite all'indietro poi mettiamoci anche una nota perché per il momento funziona solo con la funzione matematica parabola y uguale x quadro ok più avanti andremo a modificare questo fra qualche video magari fra tre quattro cinque video andremo ad aggiornare questo stesso programma e permetteremo a questo programma di ricevere una funzione anziché averla hard coded come si dice hard coded non vogliamo le cose hard coded vogliamo poterle passare come input di volta in volta diverso però per adesso lo lasciamo hard coded chiudo qui un attimo la mia function ovviamente qui adesso mi rimane da implementare da scrivere il codice fermo un attimo qui il discorso di questa function vado subito ad implementare l'altra function che è quella che fa proprio il calcolo matematico che mi restituisce la y a partire da una x questa volta la x è un valore scalare quindi magari lo scrivo qua x scalare posso chiamarlo con lo stesso nome le variabili non c'è nessun problema se sono in ambienti diversi questi sono in function diverse perciò non c'è un name clash non vanno in conflitto tra di loro i nomi sono in ambienti diversi e non c'è conflitto qui la x è vettoriale bene questo qui che cosa fa fa il calcolo x per x ecco non scrivo x quadro perché x per x in teoria è più efficiente dal punto di vista della computazione sull'hardware di solito ma non è detto però peggio non è di solito perciò lasciamo x per x x quadro e qui scriviamo magari un commento funzione matematica parabola non c'è nessuna differenza tra una function e una funzione matematica lo chiamo io matematica per dire questa corrisponde proprio con quella f di x che noi scriviamo in matematica mentre non tutte le function di un linguaggio di programmazione corrispondono con funzioni matematiche era questo che volevo evidenziare allora nel codice che cosa facciamo generiamo il nostro vettore delle x prima di tutto andiamo a fare una cosa scriviamo la lunghezza n e il numero di elementi n che cos'è è la lunghezza del vettore x bene adesso facciamo un piccolo commento qua mettiamo il valore della k perché se un attimo torniamo allo sketch abbiamo sei valori valori per la k perché abbiamo sei punti da identificare con un indice intero che parta da 1 quindi avremo valori da 1 a 6 ecco avremo valori da 1 a 6 quindi questo qui è k poi in corrispondenza di questo avremo tante x la x1 la x2 la x3 la x4 la x5 la x6 questo qui sarà il vettore x di 6 elementi in corrispondenza di questi elementi avremo un valore in uscita per la dy metto qua y y y y y questo qui è dy su dx bene anzi in realtà chiamiamolo dy numerico come l'abbiamo anzi chiamiamolo dy temp ecco come adesso vedremo subito anzi possiamo già metterlo qui dy temp è uguale un vettore di zeri una riga e colonne n cioè è grande quanto x in termini dimensionali ma è riempito di zeri per adesso questo inizializzazione scriviamo qua inizializzare i vettori da usare ottimizza il nostro codice diciamo è una tecnica non è fondamentale però è molto importante fatela adesso andiamo a vedere che cosa succede col risultato il risultato noi lo calcoliamo qui 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 e qui ecco questa è effettivamente di y numerica è una sottoparte di dy temp senza considerare il suo primo elemento e poi abbiamo effettivamente 1, 2, 3, 4, 5 elementi per il vettore in uscita quindi questo sarà proprio il diciamo il modo in cui noi potremo lavorare sul vettore di uscita gli indici del vettore di uscita quindi qui diciamo così vettore di uscita mettiamoci anche indice indici d ecco del vettore di uscita va bene adesso che cosa facciamo dobbiamo fare un loop per k che vada dal numero 2 ad n e adesso vediamo perché ma è molto chiaro ormai perché noi vogliamo far variare il pedice dal 2 alla fine dal 2 al 6 perché dobbiamo partire dal secondo valore di k infatti dal secondo punto del nostro dominio che in realtà è il primo perché abbiamo detto che il meno 3 è un punto fantasma se non facessimo così non potremmo calcolare la derivata nel punto x pari a meno 2 quindi vogliamo partire con la k dal valore 2 fino a n che sarà 6 in questo caso qui che cosa facciamo allora io l'ho chiamata x k precedente ecco che cos'è la x k precedente sarà la x con k meno 1 adesso facciamo un piccolo esempietto qua sotto io posso aprire un terminale qua new terminal ecco mi si apre la finestra qua sotto e posso farvi vedere posso lanciare octave voi se usate matlab ce l'avete già integrato nel vostro ambiente da qua sotto posso farvi vedere per esempio quello che dicevo prima x uguale meno 3 due punti 1 due punti 2 ecco se non metto il punto e virgola lui mi fa vedere tutti i valori se invece metto il punto e virgola non me li fa vedere questo è il modo in cui ho creato il mio vettore di partenza per esempio con questo vettore se io vado a selezionare x2 mi viene meno 2 se scelgo x per esempio 1 2 3 4 ecco x4 che cosa verrà? questo è x1 questo è x2 questo è x3 questo è x4 quindi verrà 0 chiaro? invio infatti viene 0 x5 viene 1 x6 viene 2 benissimo x6 è anche chiamabile con xend cioè l'ultimo valore dell'indice di questo array me lo metti qui e estrapoli estrai quella componente esatta e me la fai vedere in questo caso nella variabile ans come è uscita bene quindi abbiamo visto che con questo questa riga qua di codice prendiamo l'elemento precedente rispetto al k attuale cioè k meno 1 k vale 2 meno 1 vale 1 quindi prendiamo la x1 al primo giro ho sbagliato ecco adesso mettiamo anche una xk che cos'è? è la x k bene adesso dobbiamo calcolare effettivamente implementare questa formula che abbiamo visto nei nostri appunti questa esattamente questa quindi questo sarebbe il nostro di ytemp e questo di ytemp che cosa sarà? sarà calcolato in x con k quindi attenzione devo metterci le cose nel modo giusto di ytemp calcolato la componente k voglio la componente k di che cosa? sarà un qualcosa diviso per h h viene passato come argomento alla function perciò all'interno della function lo posso usare altrimenti avrei un errore mi direbbe la variabile non esiste qui dentro ci devo mettere la funzione calcolata nel xk meno la funzione calcolata nell'x k precedente e qui il for è finito metto un end e il mio ciclo è finito cioè il ciclo va avanti per n meno 1 volte cioè per 5 volte 2 3 4 5 6 e poi si chiude adesso vi faccio un breve riepilogo di come funziona un ciclo vi faccio un esempio qua sotto io ho il mio vettore x x vale meno 3 meno 2 meno 1 0 1 2 bene se io dicessi for k che va da 1 a 6 potrei dirgli di stampare a schermo x con k più 10 quindi mi verrebbe anzi per 10 facciamo così più facile mi viene meno 30 meno 20 meno 10 0 10 20 metto end e lui lo esegue ecco meno 30 meno 20 meno 10 0 10 20 che cosa ha fatto ha fatto variare k da 1 a 6 incrementandolo di volta in volta di 1 ed ha eseguito questa riga qua ha detto semplicemente moltiplica il valore di x con k quindi si parte da 1 quindi x con 1 quindi meno 3 un sacco di quindi per 10 farà meno 30 meno 30 siccome non ho messo il punto e virgola lo stampa tutto qua meno 30 arriva alla fine del loop e che cosa fa il loop? è fatto in questo modo funziona così sempre un ciclo for incrementa la variabile di 1 quando arriva qua giù in fondo e poi controlla se questa variabile di iterazione si chiama in questo caso l'abbiamo chiamata k controlla se s è ancora nel range tra 1 e 6 in questo caso quando lo incremento di 1 l'1 diventa 2 il 2 è ancora tra 1 e 6? sì e allora siccome ho detto sì questa condizione verificata il programma entra di nuovo nel loop questa volta con valore 2 per la k quindi stamperà la x con 2 per 10 cioè meno 2 per 10 cioè meno 20 infatti meno 20 arriva qua giù incrementa la k di 1 3 3 è tra 1 e 6? sì allora si rientra di nuovo nel for così col 4 così col 5 così col 6 quando arriva al 7 va a fare il controllo 7 tra 1 e 6? no questo non viene più eseguito e si passa fuori si esce dal for questo è il modo in cui funziona il for vi ho fatto un piccolo ripasso magari qualcuno di voi non se lo ricorda o non l'ha mai visto altri video sulla programmazione e su MATLAB non per forza MATLAB ma anche altri linguaggi ma comunque anche su MATLAB li trovate sul mio canale Tutor Island perciò iscrivetevi e seguite cercate gli altri video che vi interessa richiedete anche dei video in particolare se ne avete bisogno o piacere e io li farò adesso ho bisogno di eseguirlo questo codice perché questo codice da solo non fa nulla immaginate di avere una automobile in garage e nessuno la guida l'automobile c'è potrebbe funzionare se qualcuno la sapesse guidare ma nessuno la sta guidando e allora ci vuole un guidatore quello che io di solito nel codice chiamo un driver andiamo a crearlo così posso dividere la finestra in due e lui mi apre due istanze dello stesso file ma io in realtà apro il gestore delle risorse creo un nuovo file che chiamo driver punto m ho cambiato tastiera e non ci beccano i tasti benissimo posso chiudere adesso l'explorer chiudo il file che ho già a sinistra non mi serve averne due copie aperte e avrò a sinistra il file automobile il file che fa il lavoro e a destra il file driver il file che lo guida perché la x la h devono avere dei valori che vengono passati dall'esterno qui chi di voi ha già esperienza con la programmazione sarà più a suo agio chi non ne ha seguitemi e piano piano diventerà chiaro il video è quasi finito manca l'ultima parte perciò state tranquilli allora andiamo a definire la h prima di tutto abbiamo detto 1.0 mettiamoci un commentino e spaziatura tra elementi del dominio discreto ecco un bel commento mettiamo una x minima uguale a meno 3 punto 0 punto virgola x max mettiamola pari a 3 punto 0 non sono obbligato a mettere tutto in colonna ma lo faccio giusto per una questione di leggibilità potrei anche far così per esempio se volessi proprio essere ad alcuni piace scrivere le cose così ma è solo una questione di leggibilità al computer non interessa bene con questo adesso posso creare il mio array il mio vettore x andrà da x minimo vedete non metto dei valori hard coded metto delle variabili per ciascun valore così poi vado a cambiare la variabile e non devo ricambiare il codice sotto ecco l'x massimo in realtà è 2 abbiamo detto sì creo anche un'altra variabile che poi mi servirà lo vedremo la chiamo xplot e la definisco come una selezione per gli elementi di x che vanno dal secondo all'ultimo abbiamo visto l'end è l'ultimo indice quindi in questo caso x dal 2 al 6 faccio vedere cosa succede qua se x vale così se io qui dico prendi chiamiamolo xplot e ne prendi la componente dalla seconda all'ultima della x ecco in effetti xplot conterrà dalla seconda all'ultima componente della x chiaro? non è difficile sono cosette che vanno viste una riga per volta vanno spiegate poi uno l'ha capito per sempre perciò tranquilli e piano piano si capisce e si scrive il codice adesso andiamo a vedere effettivamente di chiamarla scusate ho sbagliato questa non si deve chiamare function scusate si deve chiamare allo stesso modo del file ecco il nome di questa function che è la prima function che figura nel codice deve essere lo stesso nome del file mi raccomando avevo sbagliato mentre lo scrivevo scusatemi diff fin bw ecco mi sono accorto perché io adesso qui la devo chiamare quella function sono diciamo un vigile del traffico che controlla il traffico di tante function adesso mi serve chiamare questa e la chiamo dunque di y chiamiamola di y numerica all'indietro ecco sarà diff finite backward la x ce l'ho la h ce l'ho ponte virgola è fatto questo di y numerico bw sarà un vettore grande uno un elemento in meno rispetto al vettore x come abbiamo visto qua perché viene fatta una selezione ecco non l'ho fatta infatti mi stavo dimenticando di nuovo scusate di nuovo di y numerico che è quello che io voglio in uscita da questa function che cosa sarà sarà la selezione di y temp dal suo elemento 2 all'ultimo elemento stessa cosa che faccio con xplot bene scusate di nuovo per questa dimenticanza adesso diff fin bw è completo adesso andiamo a fare il calcolo qui ci mettiamo valori della derivata numerica e qui ci mettiamo sotto invece valori della derivata analitica la derivata analitica chiamiamola di y analitica che cos'è? io mi sono proposto di utilizzare per adesso la funzione x quadro parabola parabola quindi x quadro la derivata di x quadro rispetto ad x è 2 per x ricordatevi il 2 mi raccomando chi ha le prime prese con la programmazione di solito si va a scrivere 2x come si scrive in matematica sui fogli di carta non è così il computer vuole sapere se state moltiplicando quindi ricordatevi questo il per quando si moltiplica adesso che cosa ho? ho il vettore risultato calcolato con la formula numerica delle differenze finite all'indietro ho il vettore risultato calcolato con qui mettiamoci x temp x plot ecco calcolato con la formula analitica posso andare a confrontarli e allora faccio un bel plot di che cosa? della versione numerica bw doppio prima ci devo mettere la x ecco la x e la y stessa cosa qua però con la versione analitica ecco qua per mantenere il plot sullo stesso i due grafici sullo stesso plot devo usare hold on poi quando uso hold on è anche molto comodo mettere all'inizio del mio driver clear all e close all ecco questo li vedremo in un altro filmato un'altra spiegazione niente di complicato comunque mi serve fare bene il plot ecco vediamo che cosa succede intanto già così mettiamo soltanto una leggenda così ci rendiamo conto un attimino di che cosa sta venendo fuori leggenda numerica analitica ecco salvo e posso andare su octave sulla riga di comando di octave e chiamare il mio driver allora c'è un errore vediamo qua forse non ho salvato il file ah si infatti infatti ho sbagliato stesso errore che ho fatto prima questo si chiama f se io qua chiamo f poi la funzione la devo chiamare f bene salvo e adesso posso lanciare il driver ecco sembra che non ci siano errori vado a vedere il risultato grafico eccolo qua questo è il risultato del mio calcolo allora la soluzione analitica differisce dalla soluzione numerica di che cosa beh di 1 di 1 andiamo a vedere qua nel dettaglio con lo zoom si è proprio 1 adesso facciamo così 1 differisce di 1 infatti se vogliamo essere precisi andiamo a vedere proprio nel codice che sia 1 posso dire dunque le variabili le ho chiamate di y numerico si di y numerico bw meno di y analitico vedremo tutti meno 1 meno 1 meno 1 meno 1 è la distanza la differenza tra le due soluzioni punto per punto infatti se chiamo se lancio questa mi vengono i valori che ho calcolato a livello con la formula numerica e questi con la formula analitica quindi sbaglio in difetto con la formula le differenze finite in avanti sbagliavo in eccesso andiamo a vedere andiamo a vedere perché l'errore è 1 l'errore è pari a meno un mezzo f secondo in eta per h dunque h lo conosco f secondo in eta beh è facile perché la derivata della x quadro scriviamola qua se la mia f di x è uguale ad x quadro la f primo di x abbiamo detto è uguale a 2x e la f secondo di x sarà uguale uguale a 2 quindi è costante non dipende da eta perciò 2 diviso 2 fa 1 e quindi l'errore vale proprio meno h ed ecco spiegato perché il nostro errore è proprio pari a meno h cioè a meno 1 vediamo verifichiamo questo perché se io qui ci mettessi ad esempio 0.1 salva e poi rilanciassi il driver invio vado a vedere il grafico e mi accorgo che l'errore questa volta è molto più piccolo andiamo a vedere spostiamo un attimo ecco qua zoomiamo ancora un po' lo vediamo proprio anche dal grafico ecco si vede proprio che l'errore è 0.1 lo posso anche vedere nel codice in effetti posso scrivere quella cosa che avevo scritto prima ecco adesso ho molti più elementi ovviamente perché ho un intervallo molto più piccolo comunque vedete gli errori l'errore ad ogni punto è sempre pari a meno 0.1 cioè è sempre pari a meno h che è quello che ci stava dicendo anche la formula che avevamo visto nel video precedente questo pezzo qua ecco qua bene andiamo un attimino a rifinire un po' il plot perché vogliamo farlo un po' più carino dunque non mi piace nel caso numerico ma in generale non mi piace vedere le linee continue noi non sappiamo non troviamo una retta troviamo dei punti quindi per far vedere a chi sta guardando il plot che questo è un plot numerico è una buona cosa fare il plot con dei punti anziché con delle linee quello che sta facendo Matlab Octave per fare questo plot lui traccia un segmento di retta tra un punto e successivo ma non c'è una retta lì in mezzo in realtà non è detto che ci sia una retta quindi per andare a cambiare devo andare nelle preferenze nell'impostazione del mio plot che vanno subito dopo gli argomenti x e y e per esempio se volessi creare se volessi plotare usando dei quadratini square la soluzione numerica magari blu ok b e poi se volessi plotare invece con delle x magari rosse ecco la soluzione analitica salverei poi eseguirei salvo ed eseguo e vado a vedere ecco adesso è un po' più carino secondo me così ecco vedo che la soluzione numerica sta sotto rispetto a quella analitica io so che l'analitica è quella corretta ma di nuovo noi usiamo calcolo numerico metodi numerici perché nella maggior parte delle case applicativi non riusciamo a calcolarle queste cose non riusciamo a calcolare la derivata calcolare l'integrale a risolvere un'equazione differenziale in modo analitico e quindi andiamo nel numerico perciò questo confronto adesso noi lo facciamo ma in realtà nella pratica si può fare poche volte ahimè quindi dobbiamo cercare il più possibile di sviluppare metodi funzionanti sui quali poi possiamo fidarci senza sapere a priori il risultato analitico dei nostri calcoli aggiungiamo gli assi aggiungiamo anche gli assi dai così facciamo un ripasso di MATLAB per mettere l'etichetta degli assi basta scrivere x label ecco non mi piace questa cosa che mi autocompleta è troppo difficile quello che mi scrive lì x label e qui si metto x poi y label oh tastiera nuova ancora mi devo abituare y label mettiamoci di y su di x sì così perfetto mettiamo anche un titolo al nostro plot così siamo a posto scriviamo per esempio differenze finite all'indie non posso mettere l'apice il come si dice l'apostrofo perché sto usando le virgolette singole allora se voglio mettere l'apostrofo dentro le virgolette singole devo usare le virgolette doppie cioè devo lasciare le singole e mettere le doppie ok salvo rilancio questa volta dovrebbe essere completo ecco sì c'è tutto c'è tutto questo è un bel plot è un plot che potreste consegnare tranquillamente uno dei vostri lavori preparativi all'esame o in un lavoro di dettaglio dell'esame magari all'orale è un plot completo perché ha il nome sugli assi che cosa c'è in quell'asse ha una leggenda ha il titolo e per altri dettagli poi vi farò a breve un video su plotting con MATLAB e con le principali opzioni più comuni bene direi che il video finisce qua è già abbastanza lungo fatemi sapere nei commenti il canale indietro manca una i lo modifico subito il canale è ancora abbastanza nuovo magari quando guardate questo video sarà fra qualche anno e avrà già milioni di visualizzazioni ma ancora ne ha poche perciò vi chiedo di aiutarmi condividere questo video e gli altri che vi sono piaciuti con i vostri colleghi i vostri amici e magari piano piano creare una community ok vi lascio con i miei recapiti facebook tutor island fb youtube tutor island twitter tutor trattino basso island se vi serve aiuto contattatemi al mio indiritto apposito per le lezioni private e potremo stendere un piano per recupero o per addirittura migliorare i vostri risultati già buoni o ottimi insomma ho molti anni di esperienza più di 10 nell'aiuto degli studenti con le ripetizioni sia delle superiori che soprattutto universitarie che sono quelle che mi divertono di più perciò vi lascio questo recapito definitivo lo trovate anche in descrizione come sempre trovate anche altri link in descrizione guardatela bene e vi saluto con buone esplorazioni numeriche